una nuova inedita intervista doppia con scp 191 e scp 999 ragazzi lasciato mi piace superami 3.000 like per questa nuova intervista dopo e iscrivetevi al canale col tastino rosso qua sotto saluto blacknamer tiranno alle 28 se volete essere salutati nel mio video di scrivere nei commenti hashtag minecraft essere iscritti al mio canale col tastino rosso qua sotto attivare la campanellina su tutte quante le notifiche superare il 2.000 mi piace di questo video noi ci vediamo dentro intervista doppia e sarà epica vero cyber girl o scp 99 vabbè nome cyber girl mi chiamo il mostro del sonetico soprannome scp 191 scp 99 età in realtà non dovrei dirvelo però a 9 anni non sono un essere umano non ho età quindi non saprei rispondervi serie scp faccia parte della prima serie delle scp sono l'ultimo della prima serie degli scp perché io sono 9 9 9 sono mille come bigfoot ricordatevelo altezza io sono alta un metro e trentadue non ho un'altezza o taglia definita però so solo che il record del peso della mia razza è di 54 kg che però non c'entra molto con l'altezza avete ragione anche voi dove vivi vivo dentro una cella 6x6 la particolarità è che dentro questa cella c'è tipo un futon di legno che è una specie di lettino con delle coperte tutte quante carine e poi c'è un cestino con dentro delle batterie che già utilizzato vivo dentro un campo tutto quanto recintato dove non posso mai uscire di notte uffa particolarità le mie particolarità alla fine le vedete perché gran parte della mia faccia sinistra è tutta quanta composta di metallo e poi quella in giro per il corpo soprattutto sul braccio ho delle prese per la connessione a internet o anche dell'usb e poi ho tantissimi altri organi tutti quanti composti praticamente da oggetti meccanici sono composto di gelatina traslucida di color arancione e tutto quanto qua alla fine però voglio abbracciarvi quante persone hai eliminato io non ho mai ucciso nessuno perché sono sono di classe safe cioè anche se mi vedete un po così non abbiate paura ragazzi perché io sono safe sono tranquilla nessuno perché io amo fare solletico sei fidanzato non posso incontrare nessun ragazzo perché poi tutti hanno paura di me è impossibile un mostriciatolo come me che sia fidanzato è veramente impossibile questa cosa qual è il tuo scp preferito il mio scp preferito è scp 080 ho visto un video di demarc che lo faceva vedere e quel fantasmino lì mi piaceva veramente tantissimo è il mio scp preferito è scp 096 perché è buono come me come non è buono ah no è scp 096 quello cattivo allora mi piace la young girl che dovrebbe essere scp 053 giusto cosa non ti piace dell'altro cosa non mi piace dell'altro che è troppo piccolo e con le mie mani tutte quante piene di ferite non posso raccoglierlo perché mi farebbe un sacco male essendo che è fatto di gelatina e sarebbe un problema per me non mi piace il fatto che sia tutta quanto ha fatto di metallo e queste cose lì non mi piacciono per niente è strana non sembra una bambina quale potere vorresti quale potere vorrei io vorrei potere di correre velocissima così ogni volta che mi cambiano le batterie io scappo però sarebbe un problema perché così mi spegnerei il potere di essere velocissima il potere di diventare il gigantesco pensate quanto sarei bello sarei l'SCP più grande più pesante di tutti il tuo youtuber preferito il mio youtube è preferito è il mio non 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 uno youtuber preferito perché faccio faccio fatica a vedere i video su youtube purtroppo perché non mi funziona molto bene lo schermo che ho sul braccio destro e quindi non lo saprei dei marchi bravissimo mi piace lui quindi lasciato mi piace anche a questa intervista doppia è importante chi è il più resistente chi tra due il più resistente secondo me lui perché comunque è composto tutto quanto di gelatina cioè anche se per esempio lo prende lo lanci per terra alla fine rimbalza non succede nulla al massimo si spiagica però non prova dolore io invece sì quindi secondo me lui io sono invincibile come sei stato catturato e mi hanno catturata durante un attacco a un dottore che non mi ricordo neanche il nome perché è lui che mi ha modificata tutta quanta così e in pratica queste squadre speciali mi hanno prelevata da questo laboratorio dove studiavano tante altre specie di bambini e bambine come me non mi ricordo molto bene però alla fine mi sono ritrovato dentro questo campo tutto quanto così e non mi ricordo bene come mi hanno catturato questa ragazza è la prima intervista doppia con il scp tutti e due buoni meno male mi raccomando scrivetemi qua sotto nei commenti un'altra intervista doppia che vorreste vedere e iscrivetevi al canale il conto se non lo so qua sotto scelite uno dei video qua davanti per rimanere sul mio canale lasciate un mi piace ci vedete un prossimo iscrivetevi nei commenti hashtag manencaftita ciao